Buongiorno cari amici e buongiorno cari amiche, come state? Ogni giorno qua ne emergono di nuove, di novità, e vabbè. Terremo botta, speriamo che si sveglino un po' tutti qua, eh. Allora, di cosa vi voglio chiacchierare questa mattina? Ma tanti argomenti, oh Lorenzo ma non ci avevi promesso l'unboxing, ehi, calma, ve l'avevo promesso con una bella luce, sapete com'è qua? Uh, noioso, malmostoso, umidoso, freddoso, grigioso, ma adesso ci parlerai male del grigio? Mai. Eh, dipende, dipende dal supporto, i colori sono belli, si manifestano con gradevolezza, vabbè, dipende dagli occhi, dipende dalle sensibilità, dal gusto, dallo stato d'animo, e che ci fa gradire o meno un qualcosa, anche il colore. Ma sono molto importanti i supporti. Ho visto nel tempo, nei secoli dei secoli, amen, tanti di quei colori, tanti di quei filati, ho visto filati proposti in una gamma di colori infinita, che ne avrei scartato almeno almeno il 60% su quel prodotto, di quei colori. Una gamma infinita di colori è un qualcosa di importante in un prodotto, ma non sempre. Ci sono dei prodotti che si sanno esprimere benissimo in una collezione limitata di colori, tipo quel bel prodotto che adesso mi è venuto in mente, io sto lavorando, sto chiacchierando a braccio, così, a istinto, quindi a volte mi preparo cose, a volte poi me ne vengono in mente altre che non ho a portata di mano. Tipo, allora, quel bel filato Rosa Pomar, è un filato portoghese, ha un nome che è diverso, insomma, l'azienda è quello, è un filato autottono, è un insieme di fibre anche riciclate, di cotone e lana, è bellissimo, è bello, soprattutto per chi ama certi filati come le Shetland, come i Tweed, non è parente, ma ha tutta una serie di componenti, di manifestazioni che lo possono rendere assai gradevole. Io mi ci sono realizzato a una maglia che vi ho fatto vedere tempo fa, dalle maniche al gomito, un top down a teli, sì amiche e amici, top down non significa necessariamente eseguire un capo tutto intero, con i circolari, dove a un certo punto devi avere tutto insieme, l'inizio delle maniche e poi va, no, top down vuol dire che lo inizi dall'alto e poi scendi verso il basso, indipendentemente dall'attrezzo, indipendentemente dalla tecnica di costruzione. Quindi quella maglietta la feci top down, con uno scollo quadrato dove dovetti calcolare gli spigoli, non mi vennero, cioè sono venuti bene però con l'orientamento della maglia decorativa un po' buffo, non stona, però è stato un po' complicato devo dire, perché l'avevo improvvisato lì per lì. Perché l'ho fatto top down? Io che amo lavorare a fare i dritti, a teli, dal basso verso l'alto, perché mi sento a testa in giù quando faccio le maglie top down, mentre mi vengono spontanei i poncio, le cappe top down e la maglieria no, la maglieria da indossare, la maglieria con le maniche, tutta maglieria. La feci così perché prima di pensare a come poter utilizzare tutto quel filato, mi venne voglia di realizzare una bandana da collo, una scalenina. Il filato mi fu portato da una sorella, dalla zia Laura, dalla nonnina, dalla prima nonna di casa, che era andata in vacanza a Lisbona e io sono andata subito a cercare dove mandarla. E l'ho spedita in questo bellissimo punto vendita che si trova a un primo piano, è una via di mezzo fra una merceria e il negozio di filati. Cosa si trova là dentro? Rosa Pomar. Adesso il nome del negozio non sono sicura. Poi ve lo cerco e ve lo metto nel box informazione e troverete molte cose. A volte mi dimentico perché il trasferimento dei link è limitato mi pare a 5 di volta in volta, quindi io tin 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 prendo e poi non riesco a passare perché non me li dà. E poi mi dimentico di andare a cercare, quindi ricordatemelo per favore, quando prometto una cosa poi non la trovate in infobox. Insomma, spedi in quel posto mia sorella, in questo bellissimo posto vengono venduti filati, prodotti da un'azienda che utilizza velli, quindi lane, soprattutto lane, che utilizzano velli locali, nazionali, anche spagnoli, c'è una bella collaborazione, e anche filati realizzati con ricicli di fibre. E quindi quello che ho utilizzato io, il cotone proveniva da ricicli di cotone, a volte è da maglieria realizzata, mai usata e tornata fibra, a volte riciclo di cose, di filati già utilizzati che diventano altro. E quello è un progetto spagnolo-portoghese, di quel filato. Poi si trovano degli oggetti d'artigianato tipico, come certe calzature contadine bellissime, dei giorni di festa, c'è una grande tradizione di conceria anche in Portogallo, insomma, di necessità si fa virtù, le risorse del territorio quale sono, e si investe bene in quelle, insomma. Realizzando delle belle mappe, tra l'altro, ci sono degli strofinacci, delle cose in tela, dove si promuovono, si indicano sulla mappa varie razze di pecore da lana. Le pecore possono essere da latte, da lana, da carne, da carne e latte, e difficilmente le pecore da lana vengono anche utilizzate come pecore da latte, sicuramente difficile da lana, perché sono una bella risorsa, insomma, e quindi se campano è meglio. Ed è interessante come sono stati capaci di proteggere un prodotto, una tradizione, il prodotto lana, la tradizione della pastorizia e della conceria, perché tutto viene recuperato. E queste calzature sono carine, hanno il laccetto, hanno il tacchetto, poi le borse tipiche loro, e poi questo negozio vende anche manuali, altri tipi di filati, provenienti da altre parti, e fa merceria. Libri, è bello, bello, bellissimo, e non è caro appestato. I prodotti sono, ci sono vari pregi, a secondo, vengono date tante belle informazioni, sono prodotti veramente alla portata di molti. Io non m'azzardo a dire di tutti, perché ognuno sa quello che sta vivendo in questo momento, le disponibilità economiche possono essere assai limitate per tanti, troppi in questo momento, forse anche per uno solo sarebbe troppo, e quindi per molti, insomma, ci sono dei buoni prodotti e dei buoni prezzi. Aspettate, io non mi ricordo perché sono arrivata, sono piombata lì, insomma, questa costruzione, poi avevo, mia sorella mi ha regalato un tot di gomitoletti, insomma, ce ne ho ancora due, due cake da utilizzare, sono filati per calzini, e anche no, insomma, si possono usare anche per altro, e belli etichette chiare, belle le etichette, belli gadget a tema, belle le spiegazioni, accattivanti, insomma, mia sorella mi ha fatto questo cadeau, io ho usato quella da tonta subito, non ci ho pensato a farmi una maglia, insomma, quando poi alla fine ho detto, eh, ma questi colori sono belli insieme, eh, mi sono dovuta adattare, quindi ho fatto prima il corpo, quindi l'avanti e il dietro, ho suddiviso quanto mi era rimasto per le maniche, un po' ad occhio sono andata, quando sono arrivata a un certo punto con i due davanti, ho detto, vabbè, questo, visto come mi stava rendendo, ho immaginato le maniche, quindi mi è venuto tutto, non ho avanzato nulla, ho inserito solo un colore di lane cardate, perché mi serviva come contrasto, ma anche per avere un pochino più di materiale, e una misura, insomma, un po' più vestibile possibile, è venuta carina, mi sta bene, sono contenta, e quei prodotti, quel prodotto, è proposto, non mi ricordo, mi pare, 5 o 6 colori, e sono giusti, e bastano e avanzano, non servono chissà quanti, c'è un bel blu, poi vi metto il link, ve lo andate a guardare, e quindi a volte ci facciamo attrarre dai tanti colori, questo prodotto ha tanti colori, e allora ci sembra già buono, ci sembra già ottimo, ci sembra al meglio del meglio, oppure perché vengono adoperati dei nomi accattivanti, che vi fanno anche dimenticare di andare a leggere le etichette, mannaggia, l'hai fatto Lorenzo? L'ho fatto, e com'è andata? Male è andata, perché sono rimasta delusa, delusa, non dalla resa del prodotto, ma da quel, confondere le idee, non è leale, insomma, quella cosa lì, e ce la spieghi? Certo che ve la spiego, ve la spiego sì, ma questo purtroppo, non accade solo, nel mondo dei filati, quello di dare dei nomi accattivanti, che illudono abbastanza su quanto compone quel filato, ma purtroppo accade anche in questioni molto serie, quindi quando vengono modificati i nomi, quando vengono, è una presa in giro, è proprio, e poi le persone non se ne accorgono, avviene proprio un po', un'ipnosi, tramite un certo modo di messaggiare, di dare il senso, di comunicare, e uno non si sofferma sul vero significato, sui veri ingredienti, sui reali rese di quello, di quel prodotto, di quella cosa, di qualsiasi cosa, che può essere un abito, che può essere un piatto, che può essere un boccettino curativo, ecco, tutte quelle cose lì, che può essere anche un infuso, mannaggia, dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare attenti, al di là di quello che dicono, andiamo a leggere le etichette, soffermiamoci veramente sui pro e sui contro, soffermiamoci sui significati, sul modo di comunicare, se il modo di comunicare è ambiguo, abbiamo ben chiaro, cosa sia il significato di ambiguità, quando ci si muove, in un ambiente ambiguo, in un fare ambiguo, dobbiamo, i nostri nonni, i nostri bisnonni, o senza aver fatto, chissà tutti quali scuole, frequentato quali scuole, aver letto mai tanti libri, il linguaggio del corpo, il senso, il tono, le parole, il figlio, lo sguardo, insomma, sapevano barcamenarsi, o cercavano di barcamenarsi in questo mondo, analizzando, guardando, insomma, essere saggi, che cosa vuol dire essere saggi? Vuol dire stare attenti, non farsi intortare dalle parole, dal fare bulleggiante, ecco, spesso chi ha bisogno di bulleggiare altri, sta confondendo le idee, ha bisogno di confondere le idee, guardate le persone pacate, come comunicano, si guardano gli occhi, si guarda proprio il portamento, si guarda quando intervengono nel parlare, le persone, come intervengono, tanti si sentono gratificati del fare bulleggiante, perché sono persone già frustrate, e negli altri, in questi che aggrediscono, che danno spallate, si sentono, come dire, ben rappresentati, quello che loro vorrebbero, quello che viene interpretato come bello, come giusto, come ganzo, è per queste povere persone, e sono le prime vittime, e poi si sentono anche poi spalleggiate in questo fare brutto, 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 brutto. Ce n'abbiamo intorno di esempi, vero? E allora veniamo a noi amanti della lana, dei filati, che non vorremmo mai essere fregati, ma in fin dei conti è tutto scritto nell'etichetta, perché i dici fregati? È perché l'ambiguità, l'ambiguità, e non possiamo sempre prendere tutto per, come si può dire, buona fede, fatto in buona fede, e no, dobbiamo tornare a cercare il senso della serietà, la saggezza. Adesso io vi voglio parlare di cose, sperando che il cellulare non mi lasci a piedi, di cose buone, di cose che potrebbero andare, potrebbero andare bene, e ci sono persone che cercano quelle cose lì, perché le avvantaggiano in altre situazioni, ma il messaggio dovrebbe essere più esplicito, più chiaro. Ad esempio, vi racconto questa cosa che mi è successa in un negozio di paese, in una supermercata, la Hoppe, ecco, ve lo dico proprio così. Io non mangio carne di maiale, anche se il mio macellaro qua, vedi dall'altro negozio, un dono mi ha regalato una sassiccetta piccolina, perché vedeva che stavo sbavando davanti a un prodotto tipico locale. Io sono una ghiotta di salumi, in parte sono toscana, al 50% sono toscana, quindi sono venuta su a finocchiona, a mortadella, e in melone. Tra l'altro a Piombino, quando ero piccola, la mortadella veniva chiamata il melone, non lo so come mai, e il melone, noi sappiamo qual è quel frutto, sia estivo che invernale, invece quello veniva chiamato il popone, o io vi parlo di 60 anni fa fra un po', 50 qua, vabbè ero piccola, ecco, e quindi è buffo anche lì, come a secondo di dove ti trovi, devi sapere come parlare, perché la stessa cosa viene chiamata, quella che è mortadella a Bologna, non è mortadella nella Lomellina, fino a Turbigo, zone di Mitrofe, lì devi dire la Bologna, perché per mortadella viene da, veniva perlomeno fino a 30 e passa anni fa, 33, 34, 35 anni fa, 33, veniva nei negozi specializzati, anche nei supermercati mi pare, veniva venduto questo salume, è un salume tipico, tra la Lomellina, quella provincia di Milano, molto verso Novara, veniva venduta la mortadella, è un salume d'oca, di ciccia d'oca, mentre se si vuole, si voleva, non lo so se tutto era ancora così, la mortadella bisognava dire la Bologna, ecco, così, luoghi che vai, tradizioni che trovi, modi di dire, che devi scoprire, interpretare, insomma, non mangio più il maiale, perché mi fa male, e ne sono ghiotta, sotto certe forme mi fa peggio rispetto ad altre, è lì è strano, poi soprattutto nei salumi, bisogna vedere anche lì, tutti gli additivi che vengono messi, in quelli industriali, molto di rado in quelli artigianali, non è una questione di spezie, è proprio una questione di conservanti, nei salumi, e poi sì, il maiale, mangiato una volta ogni sei mesi, può anche non uccidermi, se lo mangio preparandomi due giorni prima, due giorni dopo, io so come agire, se proprio voglio sforare, con gusto, io mangiavo il lardo al posto della Nutella, biondi, mio padre doveva nasconderlo, perché aveva sempre l'attempo, e nemmeno una fettina, buono, ho fatto sciogliere sul pane caldo, buono, anche il pane, non lo mangio più, e quindi sono entrata, diciamo, alla Hoppe, c'era questa promozione, hamburger di tacchino, io mangio prettamente carne di tacchino, e non mangio più neanche il pollo, ho scoperto che certe coliche di pancia, mi venivano proprio procurate dalla carne di pollo, vate la pesca a te a collegare tante cose, quando non si sanno, quando poi le cose vengono spiegate, come capire, come e quando reagisce il nostro corpo, ci viene anche insegnato come averne la certezza, e quindi ci si prepara il giorno prima, il giorno dopo a digiuno si assume un cibo, che pensiamo possa non farci benissimo, a volte con alcuni cibi le reazioni sono un po' più lente, e con altri invece è stato immediato, vedete i pescetti, che mi hanno dato fastidio immediatamente, come messi in bocca proprio, subito è partita la reazione allergica, i latarini, e quindi insomma vado, promozione, al banco della carne, quelli già impacchettati, hamburger di tacchino, vengo a casa da stupida, da stolta, andavo di fretta a mai farlo, ho dato per scontato che fosse quello, poi invece dietro, sull'incarto, c'erano tutti gli ingredienti, a parte fiocchi di patate, cose che negli hamburger voi ce le avete mai messi, se mangiate ancora la carne o se l'avete mangiata, ecco, c'era di tutto e di più, a me pareva un incarto anche piuttosto semplice, ingenuo, non avevo letto se era di una marca o di un'altra, pensavo che fossero preparati del banco carne, che noi abbiamo anche il banco carne, a fianco al frigorifero, dove tu vai senza fare la cuota, prendi quello che ti serve, e dentro appunto c'era carne di pollo, carne di maiale, e carne di tacchino, ecco, voi sapete, avrete visto che anche sulle boccettine, delle spezie, c'è scritto, può contenere tracce di, vuol dire che tutte quelle cose lì, che sono buonissime, non fanno bene per tante persone, quindi anche lì, quando ci si mette a dire, fate questa cosa perché è sana, è sana per chi? Prima di dire che una cosa è sana, dite che è buona, poi ognuno dovrà pensare, cavarsela da sé, a secondo del piano alimentare che segue, decidere se tra quegli ingredienti, c'è qualcosa di veramente sano, anche per sé stesso, oppure no, non è che tutto quello che è buono è sano, ecco, e quindi rimasi fregata, e adesso sto molto 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 attenta, molto 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 attenta, anche perché ad esempio nell'altro negozio, tra l'altro erano prodotti di un'azienda, non erano stati preparati in loco, mentre nell'altro negozietto, ad esempio, quando vado al banco carne, è il banco carne, sono carni locali tra l'altro, e vengono ben specificati i prodotti che sono di altre aziende, tipo quelle note, ecco che l'avrete vista, sono le pubblicità, sono ben distinguibili, e si trova nel banco del fresco, a parte rispetto al banco con i macellari, si trovano i prodotti del banco dei macellari, fatti da loro, signora ha trovato, se no gliela ripreparo, perché sanno cosa acquisto, insomma, sono anche molto gentili, quindi, e mi hanno regalato la salsiccia, buona del posto, sono bravi, sono tra l'altro, ci sono degli operatori locali, che sono sempre occupati di quelle cose lì, ci sono persone del posto, è come se fosse un negozio del posto, anche se porta il nome di un supermercato, quindi, per quanto riguarda proprio, soprattutto le carni, si va sul sicuro, ma veramente sul sicuro. Allora, riguardo ad esempio, anche questo genere di infusi, no vedete, 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 no vedete,